Sono operative da oggi le 34 prime sospensioni di sanitari dell'Ulso Ottoberica che non hanno voluto vaccinarsi, lo rende noto in un comunicato la direzione dell'Ulso Ottoberica. Si tratta di 34 operatori appartenenti a varie categorie e servizi dell'azienda sociosanitaria. Il provvedimento non avrà conseguenze dirette sui servizi erogati ai cittadini, anche se ha reso necessaria una riorganizzazione con la ridistribuzione interna di altre risorse di personale. Nei giorni scorsi contro il provvedimento si era scagliato il sindacato regionale di base del settore sanità e vergognosa la campagna diffamatoria messa in atto contro medici, infermieri e operatori che non si vogliono vaccinare per i più disparati motivi, ad esempio perché sono già stati contagiati, hanno problemi di salute, hanno convinzioni personali che li inducono a non vaccinarsi. Nei posti di lavoro e sulla stampa sono additati come untori, sbeffeggiati come epiteti, come Novax. Molti di loro se avessero la certezza che il vaccino proposto garantisse l'immunità sarebbero i primi a vaccinarsi. Intanto nell'Ulse de Pedemontana sono state inviate 155 diffide ad altrettanti operatori sanitari che non si sono ancora vaccinati. Questi 155 sono gli ultimi dei lettere consegnati attraverso la posta interna, danno 4 giorni di tempo per vaccinarsi, pena la sospensione dal servizio che scatterà dalla prossima settimana.